Ciao a tutti i miei cari zuccherini e benvenuti sul mio canale di Chialetta Chef. Oggi vi insegnerò a fare un dolce tipico napoletano che si fa nel periodo di carnevare, il migliaccio. Adesso vi dirò gli ingredienti per farlo. Allora, un litro di latte. Sette uova. Una scosta di un limone intero, 400 grammi di zucchero, 100 grammi di burro, 100 grammi di cermolino e una Chialetta di mille fiori intera. Per iniziare serve un litro di latte. E la valutate. Poi accendete il fuoco a fiamma lenta. Aggiungete 100 grammi di burro. E la versate. Bisognerà aggiungere un pizzico di sale. Poi versate lo zucchero semolato. E le scolate. E le scolate. Aggiungete la buccia del limone. Adesso continuate a mescolare lentamente. Adesso dovete aprire la burra. Ne aprite sette. Poi aggiungete l'ultima. A questo punto prendete una frutta e mescolate il tutto. Piano piano perché sennò a essere i cuori come ho appena fatto io. Adesso mescolate per bene. Mescolate il tutto finché non siamo alba per bene. A questo punto potete aggiungere la fialetta di mille fiori intera. E mescolate. Aggiungete lentamente il semolino. E mescolate per bene. Non vi dovete fermare perché sennò si attacca sotto. Finché non diventa un po' duro dovete mescolare. Mescolate. A questo punto imburrate e infalinate la teglia. Con calma. Sotto e ai lati. Adesso mettete la farina bene. Mettete un po' di farina. E fate così. A questo punto riscaldate il forno a 170 gradi. A questo punto, che l'impasto sarà un po' granuloso, potete spegnere la fiamma. Quando il composto è ancora caldo, pian piano versate l'uovo. Adesso girate il tutto per almeno 5 minuti. Adesso girate le scorze del limone. A questo punto versate l'impasto nella teglia. Se non ce la fate, fatevi aiutare da un adulto. A questo punto, se volete, potete spegnere il limone senza mancarlo. Una volta in forma impiegherà circa 50 minuti. Una cosa che volevo dire, per i fornelli, i più piccoli, fatevi aiutare da un adulto. Durante la cottura, il migliaccio si potrà un po' gonfiare. Ecco qui il vostro migliaccio è quasi pronto. Dopo circa 50 minuti, il vostro migliaccio sarà pronto. Ecco qui. Il vostro migliaccio è pronto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale e alla prossima ricetta. Ciao! Subtitelare